Buongiorno ragazze, buon lunedì, qui sono le 8, sono appena le 8, sto prendendo il mio primo caffè, che bello, penso sia il momento più bello della giornata. Scusate la voce perché mi sono svegliata una mezz'oretta fa e ho già fatto il letto, ho già fatto a reggiare ovviamente prima, ho già fatto colazione, adesso prendo il caffè, che poi ho intenzione di andare al mare stamattina da sola, sul presto, così almeno mi dedico 2-3 ore a me stessa, in relax, in spiaggia e poi vi porterò con me. Buona colazione se non l'avete ancora fatta. Ore 9, sono già al mare, ciao! L'acqua oggi è bellissima e si sta da bio, poca gente, tranquillità. Sono stata capace anche di montare il mio ombrellone da sola, brava! Un po' di cruciverba, vista mare. Ragazze, dato che mi stavo mettendo la crema nei piedi, volevo consigliarvi questa, ve l'ho fatta già vedere in passato, mi sembra, della marca Genera. Io l'ho presa per la prima volta al mercato, infatti domani, che è martedì, qui a Pesaro ci sarà il mercato, andrò assolutamente perché è quasi finita. Ragazze, a me mi ha salvato i piedi. Qui dice che è specialmente per i talloni, infatti d'estate a me i talloni mi si screpolano da morire con la sabbia e con il sole. E quindi nulla, volevo consigliarvela. Io la trovo al mercato a 2-3 euro, mi sembra. Se la trovate e avete problema di screpolatura nei piedi, prendetela. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way, when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share. We'll stick together, ride or die, let's show we care. Through thick and thin, you've been there by my side. My shoulder to lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down with you. My friend, there's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship. Upon the storms and sunny days, together we'll walk this road. Hand in hand, hand. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In the silence of the night, or the chaos of the day. You're the one I turn to, in every single way. With you, I find solace in the warmth of your embrace. Together we stand strong in this endless phrase. Friendship, oh friendship, let's make our colors blend. In this crazy life we live, we all need someone to hold. A friend to like the way, when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share. We'll stick together, ride or die, let's show we care. Through thick and thin, you've been there by my side. Show we're too lean on when the tears couldn't hide. You're the one who lifts me up when I'm feeling down with you. My friend, there's no need to wear or frown. Friendship, oh friendship. All the storms inside. Yeah, I don't know. Martedì, ore 11.30 più o meno. Sono andata da risparmio a casa perché dovevo prendere i catturi umidità per gli armadi. Ma ogni tanto capita che non ci sono e oggi era proprio quel giorno. Quindi vi faccio vedere quello che ho trovato. Ovviamente tutte cose che sapevo che prima o poi mi sarebbero finite nei giorni seguenti. Un paccone di tovaglioli. 100 tovaglioli, 1,29 euro. Per rimanere sempre in tema. Un pacco da 100 bicchieri, 1,29 euro. Anche questi. Poi ho trovato questa famiglia di dischetti. Piccolini e i quadrotti grandi. Questi li uso di solito per gli occhi. E questi li uso per tutto il viso ovviamente. Sono 100% in cotone. E costavano solo 77 centesimi tutti e due. Poi mi è quasi finito il dentifricio. Cioè ne ho solo mezzo. Ho preso questo, 99 centesimi di acqua fresh. Pulizia e freschezza. Effetto bianco. Microcristalli. Per una profonda pulizia della bocca. Vediamo. L'ho provato anni e anni fa. Da un po' che non prendo acqua fresh e l'ho preso. Ho incominciato a riprendere le mie salviette. Sono 40 salviette. Io le uso per pulizie veloci. Come sapete non sto facendo più il semi permanente da un po'. Quindi metto io lo smalto. Adesso è arrivata l'estate. Quindi si mette anche più spesso nei piedi ovviamente. E ho preso questo a 55 centesimi. Dice profumato. Vedremo. E poi una cosa stranissima. Li ho guardati tutti. Ed erano quasi vuoti. Alcuni. Ho preso questo che era abbastanza pieno. A 99 centesimi. Ho preso le tavolette WC. Perché me ne è rimasta solo una. E stamattina ho cambiato quell'altra. Perché era finito. Nel WC. I miei soliti sacchetti gelo. Sono 20 pezzi a 99 centesimi. Io prendo sempre il formato medio. Mi rimane più comodo per insacchettare le cose in freezer. Poi la spugna magica. Che mi risolve un sacco di casini nei muri. Sono addirittura tre queste. Non le avevo mai vista. Di solito mettono sempre il pacco da due. Comunque l'ho trovato nell'angolo occasioni. 99 centesimi. Poi. I mormidella. Io prendo sempre questi fazzoletti per il naso. 10 pacchetti addirittura profumati. 99 centesimi. Poi mi sta finendo il sapone per le mani. Ho preso questi due. 88 centesimi l'uno. Un sapone neutro. E quello antibatterico. Il mio solito. Per finire. Un pacco di panni cattura a polvere. Profumati. Alla lavanda e camomilla. E ho speso 13,40 euro. Buongiorno. Ora è 9.30 quasi. Io mi sono appena allenata. Ho già fatto tutte le faccende in casa. Adesso corro in doccia. Perché alle 11.00 devo andare in ospedale a ritirare un referto. E quindi non vorrei fare tardi. Si inizia questo mercoledì. Volevo farvi vedere un attimo l'outfit che vi metterò stamattina. Come vi ho già detto devo essere alle 11.00 in ospedale che devo ritirare un referto. Metterò una canottierina semplicissima. Bianca. E sotto metto questo pantalone. Che come potete percepire è leggerissimo. Sembra di non averlo. Quindi va benissimo così. Esco in monopattino. Quindi non sono né a piedi né in macchina. Che è caldissimo. In monopattino c'è un po' d'aria. E sotto metterò un sandalino. Oli Birkestock. Adesso vedo. Ciao ragazze. Eccomi qua. Finalmente vi faccio vedere. Scusate la ripresa ma sto cucinando. Sono uscita da poco dalla doccia. Non so se si può vedere dai miei capelli da pazza. Niente ragazze. Referto ritirato. Tutto ok. Dovrò fare delle altre visite. Ma tutto a posto. Nulla ragazze. Io adesso sto cucinando. Sto facendo uno spaghetto con il pomodoro. Semplicissimo. Aspetterò Pierpaolo. Qui il tempo è brutto. Vabbè dai ci ha dato un po' di tregua. In questi giorni è stato sempre bello. È brutto ma è caldissimo. Quindi ragazzi. Io penso di chiudere il video qui. Vi invito ad iscrivervi al canale. Di lasciare un like e commento. Di attivare la campanella. Per non perdervi nessun altro video. E per attivare la notifica. Vi mando un grosso bacione. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.